Mirta Merlino, ecco chi è, il marito famoso Mirta Merlino è stata, per tanti anni, un volto di punta di La7 con il suo programma L'aria che tira. Adesso la conduttrice è passata a Mediaset dopo aver abbandonato la sua trasmissione, e sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio 5. Lei, però, è piuttosto riservata sulla sua vita privata ed in pochi sanno chi sia suo marito. Mirta Merlino, chi è e cosa fa il marito Marco Tardelli? Mirta Merlino diventerà una delle protagoniste di Canale 5, dato che dopo l'addio a Barbara D'Urso, andrà proprio a lei la conduzione di Pomeriggio 5. La giornalista e conduttrice è già molto nota per i suoi lavori sulla La7, ma in pochi conoscono i dettagli della sua vita privata. Mirta Merlino ha avuto in passato diverse relazioni con volti più o meno noti. In giovane età ha avuto una relazione con Domenico Tucci, finita poi male, e da cui ha avuto due gemelli, Giulio e Pietro. Nella sua vita è poi arrivato l'ex amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, da cui ha avuto una figlia di nome Caterina. Anche con lui è finita, e la Merlino ha raccontato di aver pensato di non poter più trovare l'amore. Invece nella sua vita è arrivato Marco Tardelli, ex volto della Nazionale Italiana di Calcio ed attualmente allenatore. Tardelli è stato per dieci anni con la Juventus, poi si è trasferito all'Inter ed ha anche allenato la Nazionale Italiana di Calcio Under 16. Ed è stato vice allenatore di quella Under 21, con cui ha vinto gli europei di calcio. Poi è passato ad allenare la squadra di Arezzo ma, ad ogni modo, non ha mai abbandonato la sua grande passione per il calcio, che ancora oggi è un lavoro per lui. Mirta Merlino, le dichiarazioni della giornalista su Tardelli. Nell'ultimo periodo, Mirta Merlino è stata paparazzata insieme al suo amato Tardelli, nella splendida cornice della Pantelleria. I due sono apparsi innamoratissimi come sempre. La Merlino, nel corso di alcune interviste rilasciate in passato, non ha mai trascorso la grande armonia vissuta con il marito. Di recente, infatti, la Merlino ha dichiarato che l'amore è stato in grado di darle una pace ed una serenità, che prima non aveva. La presenza di Marco Tardelli nella sua vita l'ha resa più sicura, sia nel quotidiano sia sul lavoro. Infatti ha meno paura di esprimersi e si sente più libera sotto tutti i punti di vista. Mirta Merlino ha spiegato che era come se prima indossasse una maschera, che ora non indossa più grazie alla sicurezza che ha acquisito per la relazione con Tardelli e per l'amore, in generale, presente nella sua vita. La Merlino ha rivelato che suo marito si è trasferito a Roma da lei lasciando tutto, ed è stato un gesto di grande coraggio che lei ha apprezzato molto, dato che il coraggio è contagioso. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questa coppia e conoscevate il marito della Merlino? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.